famon impero di franco giori più strette le sardine in una scatola di latta o gli eternauti nella sala monitor di nun boh lo schermo principale era ancora spento mancava una manciata di fase alla diretta ra avrebbe voluto mangiarsi le unghie spettinarsi fare versi da uro picchiare qualcuno insultarlo perché era caduto invece inspirò profondamente e trovò le parole appropriate che il suo ruolo imponeva l'umanoide saprà destreggiarsi al meglio anche questa volta ragazzi all'intelligenza artificiale più avanzata della nostra tecnologia teniamo presente che in grado di calcolare quattro centinaia di reazioni umane in un fas 16 sviluppi psicostorici in due fasa sviluppi psicostorici e parla come mangi disse ptà non aveva mai sopportato di essere comandato da uno più giovane l'alzheimer gli stava moltiplicando le insubordinazioni a casaccio faresti meglio portare rispetto al nostro comandante e al professor seldoni sbottò orus fissandolo con la speranza di avere i raggi inceneritori ra fece ricorso alle nozioni di autocontrollo della app yedi 2 e ignorò i due era l'unico eternauta di nun ad avere assistito a tutti i corsi di psicostoria dell'illuminare seldoni sepolto tra le macerie della memoria sbriciolata di ptà isaac asimov seldoni aveva formulato le 30 leggi matematiche che determinano la storia di un popolo il destino di un pianeta o la sorte di un impero spaziale le leggi applicate all'impero galattico di escobar ne prevedevano l'imminente dissoluzione e un lunghissimo medioevo di violenza il professore sperava ardentemente nel suo piano torniamo alla terra da generazioni la tecnologia delle astronavi nun consentiva strappi spazio temporali le spedizioni degli scienziati volontari gli eternauti erano state fino a quel momento solo esplorative intorniamo alla terra gli eternauti avrebbero dovuto modificare il corso della storia del pianeta terra da cui era iniziata la colonizzazione dell'homo sapiens nella galassia si sarebbero impegnati a impiantare una civiltà gerarchica in grado di anticipare e quindi resettare quella dei tribali anarca dominatori del pianeta d'origine per 300 secoli terrestri secondo il professore l'umanità avrebbe aumentato di 12,8 punti percentuali il livello di rincoglionimento e di 53,3 punti percentuali quello di obbedienza sociale in tutta la galassia colonizzata anche dopo 3500 big fasa le ribellioni che stavano sgritolando l'impero galattico di escobar sarebbero state di livello due punto irrilevanti controllabili come capo di missione terra il professore aveva scelto ra l'allievo più costante e brillante poi si era fatto di nebbia irretito da una affascinante soletna mita e dalla sua collezione di farfalle tatuate potenza della variabile f f di femmina lo schermo del monitor si accese l'umanoide raffreddati a sufficienza i circuiti aveva sollevato le palpebre di protezione alle telecamere oculari e si era attivato per il grande giorno il senato di roma lo aspettava per le dimissioni ci siamo annunciò rà solenne scialla raga scialla andatevi a farvi un giro nella stiva di nun e godetevi una siber mignotta disse ptà a voce alta cos'è tutta sta tensione che sta mai succedendo taci scimo abbiamo disattivato le siber mignote per risparmiare energia lui interruppe orus è da troppo tempo che sopporto le tue stronzate vecchio aggiunse sapeva dell'alzheimer ma non riusciva ugualmente a mandare giù le uscite del collega una volta le aveva paragonate a tortellini senza noce moscata che invece sono buoni lo stesso se l'altro era ormai andato lui era tanto tanto pedante doveva fare sempre la punta oh la la sei burbero orus burbero e fifone cosa temi aggiornamento per il tuo cervello spappolato l'astronave nun ci ha permesso uno strappo temporale di 3500 big fasa e siamo in missione sulla terra degli antenati dobbiamo creare un percorso alternativo alla storia dell'impero galattico roba da poco vero abbiamo iniziato la civiltà egizia sul fiume nilo qualche buon tempone l'ha scarabocchiato sulle pareti e sul soffitto della sala monitor non vedi missione compiuta secondo aggiornamento pistola il rientro di nun è andato storto per colpa tua e siamo alunati in emergenza a bordo abbiamo ossigeno acqua e cibo essiccato per poco più di 2000 anni terrestri e godiamoceli la nostra aspettativa di vita è di 400 mila anni 400 già abbiamo spedito sul pianeta terra un umanoide della dash adidas jegermeister endemol un super daie dobbiamo accelerare ulteriormente il progresso dei nostri antenati se entro 2000 anni non riescono ad arrivare sulla luna e lasciare un messaggio radio per fare partire il generatore esterno di nun siamo fritti messaggio tipo ma che cavolo ne so un piccolo passo dell'uomo e un grande passo dell'umanità allegria vamos alla playa con qualunque cazzata andrà bene boh non ne sapevo niente dunque siamo aggrappati a questo umanoide sì le speranze degli eternauti erano tutte nella capacità di manipolare gli uomo sapiens da parte dell'intelligenza artificiale daie il risponso della calcolatrice psicostorica in possesso di ra era perentorio occorreva un nuovo vasto e duraturo impero nell'area mediterranea per consentire ai terrestri di evolvere più in fretta nella tecnologia e forse salvare l'equipaggio di nun forse il responsabile del disastroso allunaggio era ovviamente pta magazziniere della stiva prima del decollo dell'astronave non si era accorto di dieci cocodrilli del nilo intrufolatisi tra i bagagli dal portellone di carico dopo la partenza da base memphis i rettili si erano mangiati condotti elettrici del generatore interno della radio intergalattica e del navigatore satellitare costringendo nun all'allunaggio di fortuna tardive le lacrime dei cocodrilli scoperti dal guardiano set e trasformati in bistecche il danno era fatto la sola capsula scialuppa intatta aveva riportato sulla terra il miglior daie a disposizione nome operativo gaio giulio cesare daie cesare era un umanoide di ultima generazione dotato di tessuti organici alimentati da sole moscerini e di un'eccezionale intelligenza artificiale aveva resistito al deterioramento per oltre 60 anni terrestri suo compito numero 1 aumentare i territori dominati dalla repubblica di roma eseguito con la conquista della gallia compito numero 2 sposare la figlia di un potente politico per ringraziarsi il senato eseguito sposando la bella e dolce calpurnia figlia del senatore lucio pisone compito numero 3 ingravidare una donna egiziana di rango elevato per avere eredi legittimi distanti dai pugnali dell'urbe eseguito con gleopatra e il figlio cesarione compito numero 4 togliere ogni potere al senato repubblicano e trasformare roma in un impero comandato da un solo uomo per favorire secoli di continuità allo sviluppo scientifico in corso d'opera la calcolatrice psico storica ipotizzava tre secoli di imperium 12 di collasso e barbarie infine 7 di rinascita e progresso tecnologico in grado di portare l'uomo terrestre sulla luna e salvare gli eternauti se non erano già morti di fame la scritta repubblica in filo dorato sulla mantellina coprispalle bellissima devo soltanto convincere cesare mio a indossarla sulla toga in lana pesante ho impreziosito la toga il mese scorso ma non gli piace ritiene che cartago dell'enda sia una decorazione fuori luogo per anni alla fine di ogni seduta e qualunque fosse stato l'argomento di dibattito il senatore catone pronunciava quella frase per incitare roma distruggere il nemico numero uno rimane la più celebre frase della più grande vittoria della repubblica sono trascorsi 102 anni dalla distruzione della città cartaginese non 100 precisi per questo cesare teme che ricordarla cazzo sia una ruffianata senza garanzie di successo calcola tutto quello per fortuna succede che si perde in un bicchier d'acqua la scritta cartago va da una spalla all'altra copre tutta la parte superiore della toga dell'enda occupa il resto fino a tre piedi di altezza con le buone o quelle cattive oggi convincerò cesare a mettersi la toga pesante e sulle spalle il pazzerò la mantella con la scritta res pubblica pure di tessuto grosso se protesterà dirò che marzo è scemo proprio è freddo poi caldo poi ancora freddo i malanni arrivano devastano e se ne vanno come facevano i galli prima che il mio uomo li prendesse a calci in culo eccolo sta arrivando per la colazione calpurnia buongiorno buongiorno a te cesare ho cotto del pane e fichi è narcesto sul tavolo se non te garba sceso all'avanzi della scena gli escardo in un lampo di giove gli piace quando utilizzo il latino volgare che ho imparato nei mercati è molto curioso e apprende con estrema facilità mi scruta come il suo solito sorrido sai come si chiama refegato mio? chiede per la millesima volta da quando stiamo insieme vercingetorige rispondo paziente tamburellando le dita sul tavolo proprio come quel rimbecillito avverci ho fatto vai fuori legato al salame sul caro degli vinti e il fegato mio sta messo uguale e te ce vuoi buttare giù le fichi? ma che cazzo mangia st'uomo? almeno una volta vorrei che gli andasse bene quel che preparo puttana Cleopatra in fondo sono sua moglie probabilmente si ingozza di schifezze alle taverne riparto all'attacco per orgoglio ciò non toglie che il tuo palato non possa godere roba mia calpurnia, le fichi mi danno dolore quanto lance dei buroni oggi non me li posso permette arsenato mi aspettano le iene e sta volta voglio mette le bone non mi hai dato un erede e venere sa quanto l'avevo cercato so costretto a secondare i cialtroni un pochetto mi dispiace tanto amore non mi dispiace per lui ho accettato di sposarlo per amore di Roma non lo amo lo ammiro i soldati lo seguono senza tremare i patrizi gli sono grati per la prosperità i plebei approvano le sue riforme il senato della repubblica non avrebbe potuto fare manco un decimo di quello che lui ha realizzato penso di essere sterile ma non fa niente dopo mio marito ci sarà un altro uomo solo a capo di Roma papà mi racconta con disgusto di cosa è diventato il senato un orribile covo di vipere Cesare ha avuto un figlio con Cleopatra non l'ho nascosto nessuno perché l'ho chiamato Cesarione ma il figlio di quella Valdrac è solo un infante Roma verrà governata da mio nipote Gaio Ottavio altro che apparecchio io adesso Cesare mi distoglie dalle riflessioni se tu non fossi una donna te piazzerei al posto mio perché sei saggia e intelligente pane alle fiche a parte però amore sai pure tu che la storia non la fanno le donne men che meno le donne come te la fanno le dei se ce stanno o le facce toste come la mia arriva Arios un soldato dell'esercito gallico sconfitto ad Alessia graziato dalla decapitazione è diventato l'uomo di fiducia della nostra servitù ave Cesare ave Arios che c'è? il senatore decimo brutto chiede di te aspetta l'ingresso per accompagnarti in senato peggio di una tassa ma di lì che arrivo vado subito mio Cesare hai avuto la febbre tutta la notte avevi la fronte surriscaldata se vai copriti bene intervengo se vai niente se oggi mi chiederanno di rinunciare alla carica di dittatore per repressionare la vecchia repubblica è un giorno troppo importante per concedermi il triclinio avrai la forza per affrontare quel branco di vipere non li voglio affrontare a Calpurnia li voglio assecondare un pochetto per finta hanno le loro ragioni non lo so l'arcomando può fare la fortuna del regno mandarlo a mignotte pensa se la carica mia finisse a uno degli Berluscones o degli Prodes agisce come avevo previsto su certi argomenti non accetta consigli vado a prendere la toga con la scritta Cartago de Lenta Cesare non protesta come la prima volta in cui gliela mostrai e sorride docile gliela metto le studi tutte per aiutare il marito tuo eh te metto anche la mantellina guarda cosa ho preparato per copritte le spalle vede la scritta res pubblica e sorride di nuovo vuoi che faccia il ruffiano? oggi lo sarei stato comunque fa freschino le capi miei ti ripareranno è lusingato dalla premura e non si oppone indossando anche la mantellina esce dal tricligno e percorre il corridoio lo accompagno assisto al saluto tra lui e decimo brutto seguo con lo sguardo i due uomini si aprono un barco tra la gente che affolla ogni ora del giorno la strada attorno alla nostra villa assaporo lo stupore generale papino sarà orgoglioso di me stanno pugnalando il nostro umanoide cazzo gridò Horus disperato per i 300.000 anni di vita sua che parevano indirizzati alla spazzatura insieme alla dittatura di Gaio Giulio Cesare lo schermo della sala monitor di Nun si bloccò sull'immagine di un pugnale conficcato nella telecamera oculare destra moriremo di fame su questo satellite per colpa di sto stupido umanoide piagnucolò tutto l'equipaggio in preda allo sconforto si girò verso Ra il comandante sorridente stava inserendo dati nella calcolatrice psicostorica sprizzava euforia da ogni poro aveva mandato a spasso l'abituale solennità di facciata che cosa ti rende tanto allegro comandante chiese sette sbigottito per l'impero romano è finita e per noi pure addio Escobar fingerti faraone sceso in terra ti ha sdrenato la testa oggi finisce la repubblica i senatori l'hanno sputtanata per sempre aggredendo il nostro daie con orribile ferocia qualche anno di guerra civile e poi sarà imperium per ben cinque secoli il gas buonumore saturò l'aria della sala in un fass Ra sciorinò gli eternauti la rielaborazione della calcolatrice psicostorica cinque secoli di imperium e crollo barbarie per un millennium ma sapere protetto in fondazioni simili ai monasteri del satellite moon 3 da lì ripartenza prodigiosa del progresso scientifico e piedi dell'uomo sulla luna entro due millenni meglio del piano impostato per Daie e Cesare di ventidue secoli basteranno venti secoli abbiamo cibo a sufficienza branco di faraoni da teatro abbiamo tutto al fattore f fattore fato chiese Seth no f di femmina nella calcolatrice non avevo inserito la variabile f perché sono maschilista e ignorante una donna può decidere le sorti di un popolo anche senza avere nozioni di psicostoria siete davvero tanto mumie da non aver notato che Calpuria ha pianificato l'inizio dell'impero comandante non capisco ha messo la mantellina sulla toga decorata di Cesare la scritta res pubblica ha coperto cartago Cesare Daie aveva portato nell'aula dei senatori un vestiario con la scritta res pubblica dell'enda la repubblica va distrutta letale provocazione per sé e per il senato allora viva la variabile f disse Seth viva la variabile f di femmina precisò Horus il pignolo viva la cosa chiese Ptà viva la f viva la f viva la f urlaro una squarciagola agli eternauti certi di tornare a Escobar Franco giori vincitore NASF 19 vive a Budrio con moglie figlie e cagnolina per i dialoghi romanesco ha avuto la preziosa collaborazione dell'amico Paolo Brunelli per i